Ci sono due situazioni, l'anno scorso sono entrato e la squadra praticamente non avevo mai avuto nessun tipo di giocatore che avesse lavorato con me, perché la Serie A non l'avevo mai vista da allenatore, in conseguenza era anche difficile. E dunque ci è voluto un tempo fisiologico, si lavora su vari livelli, abbiamo avuto una risposta dal punto di vista emotivo molto importante, poi c'era un adattamento fisiologico a un sistema di allenamento diverso da quello precedente, però questo poi nello sviluppo della stagione per me ha portato tanti vantaggi. Abbiamo trovato grandi equilibri, abbiamo trovato le nostre situazioni tattiche dove comunque riuscivamo a fare le nostre gare e a fare dei punti. Quest'anno è più facile perché comunque 14 ragazzi hanno già sviluppato questo sistema di lavoro sia dal punto di vista tecnico-tattico, atletico e tutto quello che concerne la preparazione di una squadra. Ma ribadisco che quest'anno sarà molto più difficile perché siamo entrati dopo, perché la situazione di classifica era molto deficitaria e di conseguenza è solo per un discorso di partite giocate e di punti fatti. E dunque è più facile per un certo tipo di discorso andare a riprendere quello che è stato fatto l'anno scorso ed è più difficile perché il campionato è avanti e siamo partiti da una situazione di classifica obiettivamente e oggettivamente difficile. Io non la vedo così, nel senso che lo vedo molto equilibrato. Tu vedrai adesso con le partite, le Champions, l'Europa League, anche le grandi se le trovi nel momento giusto possono mollare qualcosa. Io spero di no perché il Chiori ha praticamente incontrato quasi tutte nel girone d'andata a parte l'Inter, però vedrai che sarà e continuare a essere un campionato molto equilibrato. Molto equilibrato e magari quel colpo che ti riesce con la grande squadra ti può fare la differenza alla fine perché sono magari i tre punti che sai che sono molto difficili da andare a prendere, ma se hai la forza di farlo sono quei punti che fanno la differenza, a prescindere dagli sconti diretti che diventano a volte molto importanti. Però voglio dire il punto del Chievo con il Bologna è un punto fondamentale perché in una squadra di grandissima difficoltà comunque il Bologna non ti ha preso tre punti e si è rimasto uguale. E se vinci il ritorno in casa sei in vantaggio nello sconto diretto, ecco perché nello sviluppo sono tante le cose da valutare. È stato uno di quei giocatori che mi ha dato più soddisfazione l'anno scorso perché era un giocatore, un play davanti alla difesa, dal punto di vista tattico è migliorato tantissimo, ma mi è piaciuto la personalità con cui è cresciuto nella costruzione del gioco. Tante volte riceveva girato, invece adesso riceve guardando la porta avversaria e dunque si guadagna un tempo di gioco. Io quando vedo Rigoni che a tre minuti dalla fine affronta i turbi e si fa tirare addosso da tre metri, questo per me è lo spirito, quello che vedo in De Rossi della Roma. Io amo questi giocatori che si sentono la squadra addosso e sono i primi a assumersi delle responsabilità. Luca questa squadra se la sente addosso perché qua da tanti anni ogni anno è migliorato e dopo De Rossi che per me in quel ruolo, con quelle caratteristiche, è il migliore, vedo Luca e Conti secondo me giocatori che possono e sono determinanti per le proprie squadre. È un giocatore importante perché se comunque davanti a Nazionale penso che hai Pirlo e questo lo mettiamo in una teca, lo copriamo e custodiamolo per il bene del calcio mondiale, non solo italiano perché è un giocatore pazzesco. De Rossi giustamente avendo Pirlo si deve un attimino spostare perché c'è un dio del calcio che gioca in quella posizione e di conseguenza Luca per quello che ha sviluppato in questi anni perché comunque fa il titolare in Serie A da molto, mi piacerebbe che potesse arrivare anche per lui una chance perché la meriterebbe per quanto fatto qui. È difficile per me parlare di quello che c'era prima. Io ho visto in 15 giorni, parlo pre-Verona, una squadra che si è messa a disposizione, che ha lavorato sodo, bene, con grande motivazione. Penso che l'entusiasmo e la voglia di capire che quello che si fa può diventare un valore è la differenza grande nella proposta perché tu puoi proporre anche la cosa più bella ma se non riesci a trasmetterla, a far capire che è un valore diventa difficile poi. Ecco perché è stato importante per me rivedere certi principi. Lo sapevo che erano lì, che covavano sotto la cenere sia dal punto di vista dell'emozione, dal punto di vista tecnico-tattico e tutto questo la squadra per me sabato l'ha tirato fuori ma qui diventa una responsabilità che adesso si devono assumere perché io so che lo possono fare e di conseguenza dobbiamo dare continuità a questo sviluppo perché non è una finale, non è che abbiamo vinto e siamo salvi. Abbiamo vinto e guardiamo fra virgolette con un pochino, sai quella famosa luce che era lontanissima e vediamo un piccolo spiraglio, però purtroppo siamo ancora ultimi e la strada da fare è ancora tanta. Abbiamo capito cosa bisogna fare per vincere delle gare e da questo si deve crescere giornalmente e da questo punto di vista devo dire che i ragazzi dimostrano grande impegno, grande attaccamento a questa maglia. Io voglio che tutti i miei ragazzi si sentano titolari e pronti a giocare dal primo minuto. Poi a volte, anzi, devono accettare le scelte allenatore, c'è da questo punto di vista chiarezza. Io dico sempre ai miei giocatori che non si devono aspettare da me il fatto che giustifico la mia scelta. Io faccio scelte che sono per me funzionali a quella che è la partita che voglio andare a giocare. La mia premessa è che allenerò tutti alla stessa maniera con la grande motivazione di volerli migliorare e loro da professionisti devono accettare le mie scelte e la mia porta poi è sempre aperta per qualsiasi tipo di discussione, di problematica. Però è un principio per me fondamentale. Io faccio allenatore e devo scegliere quelli che per me sono più pronti per andare a giocare la gara. L'Azza per me deve essere un esempio per tutti, perché comunque ha fatto veramente solo un allenamento vero per me. Io l'avevo pensato e preparato perché lo conoscevo, perché pensavo che se la partita si fosse messa in una determinata maniera poteva essere una grande risorsa e questo è un esempio per tutti. Io dico sempre, io non dimentico mai nessuno, però loro poi si devono far trovare pronti e quando ti fai trovare pronto per te diventa un valore che puoi sviluppare poi per giocare titolare, per subentrare. Se vi ricordate l'anno scorso non c'è stato un giocatore con me che non ha giocato. Perché nella stagione poi succede sempre che ognuno deve prendersi il proprio spazio, perché poi dico sempre a loro, magari quest'anno avete fatto 4-5 partite importanti, ma quanto avete costruito per voi stessi? Che sia io l'allenatore o che sia un altro allenatore nel futuro, comunque crescono individualmente e possono poi progredire nella loro carriera. Grazie a tutti!